Studia il cibo a 360 gradi. Iscriviti al corso di laurea dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Impara dai protagonisti del mondo del food in un ambiente internazionale e interdisciplinare. Acquisisci competenze sensoriali con degustazioni, laboratori e workshop. Conosci i diversi sistemi alimentari del mondo grazie ai viaggi didattici. E costruisci il tuo network globale. Per saperne di più visita il nostro sito.